Diffondere online le migliori conoscenze scientifiche e metterle a disposizione di tutti i professionisti sanitari. Con questi obiettivi è nato il Network Bibliotecario Sanitario Toscano, presentato a Firenze dall'assessore regionale al diritto alla salute Stefanie Saccardi e dal direttore dell'Agenzia regionale sanità Andrea Vannucci. Credo che sia un elemento di grande novità che porta sicuramente risparmi al sistema, una migliore fruibilità degli strumenti di informazione e anche una razionalizzazione di questi con una concentrazione presso un soggetto che è anche in grado di valutare quali sono gli strumenti più adeguati per garantire in ogni momento l'informazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari. E se un singolo medico per tenersi aggiornato dovrebbe selezionare 70 articoli al giorno, il Network gestito dall'Agenzia regionale di sanità dovrebbe semplificare proprio questa necessità. La motivazione a creare un Network, a creare qualcosa che faccia una selezione, che segnali quelle che sono le cose calde che stanno accadendo nell'ambito delle cure, nell'ambito della diagnosi, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari, è diventato un'esigenza assoluta. Il portale web diventerà quindi il punto unico di accesso a informazioni di qualità autorevoli e aggiornate e il luogo virtuale di incontro e confronto tra gli attori del sistema sanitario regionale. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.